Pomeriggio di lavoro per il Napoli, la squadra ieri è tornata ad allenarsi agli ordini di Luciano Spalletti dopo tre giorni di riposo. Il tecnico finalmente ha disposizione nuovamente Giacomo Raspadori. L'attaccante ha effettuato finalmente di nuovo tutta l'intera seduta di allenamento. L'allenatore del Napoli oggi riceverà nella sala dei baroni del Maschion Joino il prestigioso premio Berzotto per l'operato nell'ultima annata. Nel frattempo la carovana dei 16 calciatori partenopei in giro per il mondo va a gonfie vele nella maggioranza dei casi. Ieri sera Elmas è stato autore di un gol con la Macedonia del Nord, decisivo nella vittoria per 2-1 sul Malta. Oggi sarà il turno di Osimene che sfida con la sua Nigeria la Guinea-Bissau. Il centravanti ieri ha rilasciato un'intervista ai media locali soffermandosi sulla sua avventura napoletana. L'amore dei tifosi del Napoli è incredibile. Sono felice di essere fonte di ispirazione. L'unico modo per ripagarli è realizzare i loro sogni. Non vediamo l'ora di vincerlo scudetto. Un abbattuto anche sulla maschera indossata oramai da oltre un anno in campo. La scorsa stagione ho avuto un brutto infortunio al volto. È stata dura per me ma mi sono circondato dei miei cari e questo mi ha aiutato a guarire più velocemente. Sono felice di avere oggi una maschera che mi protegga. Senza volerlo è diventato un segno di identità insieme ai capelli biondi. A Napoli sono state fatte tante iniziative divertenti col mio volto. Anche i miei compagni mi mandano foto e video. È una sensazione incredibile sentire di essere fonte di ispirazione e penso che terrò la maschera a lungo soprattutto per loro.